Nei mesi scorsi l'avvio di un'attività importante in Valle Seriana e ora un problema che probabilmente vivono anche tanti altri imprenditori, ovvero trovare forza lavoro. Questa è una grande verità, noi siamo alla ricerca di tornitori, tornitori esperti che siano in grado di programmare e attrezzare la macchina in maniera autonoma e non riusciamo a trovarla e quindi quello che leggevo e sentivo ora mi scontro con la dura realtà. Quindi probabilmente come si sente anche in altre parti d'Italia, anche da noi c'è questo problema, è vero trovare in manovopera qualificata. Qualificata, qualificata e anche e soprattutto qua in Valle, visto che il cuore dice di rimanere in Valle, noi abbiamo trovato tornitori non molto distanti da Bergamo, dalla cintura di Bergamo che fin qua su non vogliono arrivare, che poi voglio dire il viaggio non è che sia... Bergamo Colzate. Sì, insomma è tutto. È tutto proporzionato. Da quanto tempo ha avviato questa ricerca? Ma diciamo che dallo scorso autunno, dallo scorso autunno abbiamo inserito giovani, abbiamo inserito gente un po' più matura, qualcuno esperto ma tanti poco esperti. Quindi un messaggio che potrebbe arrivare anche al mondo della formazione è questo? La formazione di sicuro. Noi abbiamo cercato di fare un passo in avanti, abbiamo cominciato a formarci lì in casa e quindi i nostri ragazzi seguono dei corsi di formazione interni, ma chiaramente in pochi mesi non è che puoi sperare di avere il risultato subito. Siccome il mercato oggi richiede gente in grado di attrezzare in poco tempo la macchina, ma anche per pochi pezzi abbiamo bisogno di più persone preparate. Quindi avendo testato direttamente questa problematica, una sua considerazione finale? La considerazione finale è per le persone che vivono questa valle di approfittare di questa possibilità di lavoro che offre la nostra azienda, ma anche aziende analoghe, senza abbandonare la valle, prendere la valigia, partire e andare chissà dove. Se hai la possibilità di svilupparti in casa, sfrutta la situazione e cerca di seguire la tua via qua.